Se volete comprare giochi a bassissimo costo passate nel link in descrizione su istangaming.com Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi siamo finalmente nell'estrazione del contest di grafica Perché comunque Fox ha superato gli 800 iscritti E con ovviamente c'è Mr.Fox Ciao raga Non è più Fox Master ma è Mr.Fox Quindi adesso cambio il canale, cambio il nome subito adesso Vai, lo stai cambiando? Voglio le prove, voglio le prove Allora aspetta, aspetta, aspetta Guarda su TS, ecco vedi, ecco Adesso è così, benissimo Allora ragazzi siamo finalmente arrivati all'estrazione Quasi 200 persone che hanno partecipato Che sono interessate alla intro Fox adesso ricapitolerà i premi Allora primo premio una bella intro appunto di quelle proprio stra mega fighe Quelle proprio 3D con sync Esatto Livelli overpower Secondo premio una intro Chill Chill esatto senza sync Però adesso stanno piacendo assai Quindi GG Ecco E terza intro una intro 2D Di quelle tipo molto semplici però belline ecco Certamente Questo qua raga è il primo contest dove abbiamo fatto 3 intro Dove abbiamo messo in palio 3 intro E quindi raga come state vedendo adesso dallo schermo Sono sul video Abbiamo fatto 180 like quasi 1000 visual 997 visualizzazioni E adesso andremo a estrarre con il nostro nuovo metodo precisissimo Quindi andiamo su pick a winner Qua ci sono tutti i commenti ragazzi E adesso sta aprendo la pagina di earthbet Che sarebbe l'estensione Perfetto Scriviamo pick winner 3 Comment filter mettiamo partecipo Partecipo Non ci sono persone che hanno scritto due volte se non mi sbaglio Ma le che va sono fottuti Sì infatti Perché comunque lo spam di youtube li leva Comunque raga Dove cliccare solamente go per sapere chi ha vinto le 3 intro ragazzi Quindi partiamo subito Clicchiamo su go Vediamo Non sto tagliando niente Non sto tagliando niente Vedete tutto senza tagli Perfetto Non ci credo Allora raga No vabbè Incredibile Cazzà Ragazzi primo posto Mario 00 Il vincitore del primo contest No vabbè Del primo contest dell'account moddato Ha rivinto Cioè uno sculato questo Incredibile raga E il peggio di Joker Madonna Cioè raga incredibile Secondo posto Dario Rotella Terzo posto Gaetano Chiumarulo Quindi primo posto Mario 00 Di nuovo Sì che è il vero Mario 00 Perché lo conosco e ce l'ho anche tra le amici di facebook Che ha vinto una intro 3D Con la sync Dario Rotella Secondo posto ha vinto una intro In 3D senza sync Chill E terzo posto ha vinto una intro in 2D Gaetano Chiumarulo Ragazzi dovete contattare tutti e tre Su Skype Il contatto è Foxmaster Il contatto mio è Fox Tatino basso Master 99 Comunque vi lascerà il contatto in descrizione Sì e tutto E lo contattate entro 3-4 giorni Se poi non lo contattate Perché lui me lo dirà Si rifarà l'estrazione Perché Io sono stato delle volte che La gente è morta Non mi hanno contattato per una settimana Infatti Quindi raga Fortunati tutti e tre Mario 00 è uno sculato di merda Veramente Complimenti Mario Quindi raga Per questo video è tutto Spolliciate Se volete poi un altro contest Della grafica In futuro Magari quando siamo molti di più Tipo 10.000 Passa e passa e passa e passa Passate anche dal canale di Foxmaster Link in descrizione Perché se no lui verrà a casa vostra Con la siga elettrica Vi seguirà Punto Seguirà Sembra molto brutto però Non facciamo i doppi sensi Esattamente Quindi raga Comunque Un piccolo spam Forse c'erano anche un contest sul mio canale Sì raga Iscrivetevi a Fox Perché ci sarà un contest sul canale suo Perché comunque sta per arrivare a 1000 iscritti Manca pochissimo E farà un contest lui Quindi altre intro per voi Yeah Vai Magari non vincere di nuovo a Mario Eh Mario Non partecipare Perché non vinci tu Sei venduto Mario Mi ho pagato per farti vincere Ecco Diciamo la verità Diciamo la verità A parte di questi ragazzi Domani arrivano ad Alex 100.000 euro in contanti Sì per una intro di 3 euro Esatto Esattamente Quindi raga Per questo video è davvero tutto E noi ci becchiamo Alla prossima Saluto Ciao raga Ok Ciao a tutti